Allora, ero qua che lavoravo al nuovo aereo, sabato il primo episodio, tra l'altro sul nuovo banco di lavoro che finalmente è ultimato ed è tutto pronto, cose varie, e ho detto Marco, giovedì è il primo aprile, cosa facciamo quest'anno di video per il primo aprile? Quella di farvi un video un po' pesce d'aprile, è una tradizione che porta avanti da anni e anni, dall'epoca del video su come ricaricare lo smartphone con un vasetto di Nutella Poi l'anno dopo c'è stato... ok effettivamente sì, ho fatto solo quello delle Nutella effettivamente come video del primo aprile, poi i 5 anni successivi non l'ho più fatto Però quest'anno avevo voglia, quindi... c'è un problema però, ho scoperto che avete tutti un calendario, dannazione, e cioè lo sanno tutti che è il primo aprile oggi Quindi fare un video scherzone in cui cerco di trollare voi sarebbe alquanto patetico, lo sanno tutti, ci si aspetta gli scherzi oggi Quindi ho deciso di fare un video semplicemente divertente rispetto al solito Un video di stampa 3D, bisogna mantenerle le buone abitudini del canale Solo che un po' fuori contesto diciamo, oggi con le stampanti 3D cercheremo di cucinarmi la cena, non solo con questa stampante, procuriamocene altre In particolare, consideriamo le stampanti un po' nel senso esteso del termine La Snapmaker fa anche da stampante, ma oggi la useremo come incisore laser Voglio vedere se il laser ha potenza sufficiente per cucinarmi una bistecca E dopo oculate ricerche sulle specifiche tecniche delle macchine in mio possesso, ho eletto la Mingda come nostro cucinatore principale Ha il piatto che dovrebbe arrivare a 110 gradi centigradi, è l'unica che ho Lei ha 100 gradi e la maggior parte delle altre è 90 No, anche le ghost arrivano a 110, ma le ghost non si toccano Rendiamo al volo leggermente più food safe questa piattaforma terribile Ho qua un piatto in più della Artillery Sidewinder Che da sto lato anche lui ha plastiche e materiali strani, ma da questo lato è vetro puro Un po' sporco, ma puro E quindi dovrebbe essere più adatto al cibo Abbiamo questa bellissima bistecca con una marmorizzazione che non mi sarei mai aspettato di trovare al Lidl E se qualcosa dovesse andare male ne abbiamo anche un'altra Allora, il piano è il seguente Abbiamo una stampante chiusa Per quanto il piatto arrivi solo a 100 gradi dovrebbe fare da ottimo forno Sono scomodo La Mingda che è arrivare a 110 gradi per provare a grigliarla un pochettino per fuori O in alternativa il laser, adesso capiamo come fare Se in tutto questo il calore non bastasse, beh, in qualche modo la cena la porta a un livello commestibile in ogni caso Ma guarda che bellezza, questa è buona assai Allora Sì, abbiamo anche la luce del forno Non so quanto food safe sia questa roba Ma noi ci proviamo lo stesso, ci divertiamo così Allora, magari però facciamo uno strato isolante qua Perché vogliamo che questa prima stampante sia un forno, non che sia una padella Quindi il piatto deve scaldare ma la bistecca deve starsene distanziata Guarda che robetta Ah, nell'emozione del momento però dimenticavo le basi qua Vogliamo innanzitutto asciugarla per bene Ok Vogliamo magari sfilettare un pochettino del grasso via È veramente troppissimo No, se state già commentando il video arrabbiati no Anche se commentate non sporcherò il mio prezioso nuovo tappetino blu Per metterci sopra una bistecca Molto bene C'è un pezzo che è mezzo staccato Proviamo a saldarlo, vediamo se Mmm, senti che profumo No, ok, non si riesce a saldare Bene Il seasoning con sale Che purtroppo non ho in fiocchi Solo quello fino Aglio in polvere Un po' di pepe Same goes for the other lato Voilà Come dice Guga, il mio cuoco di YouTube preferito This is as good as it gets Preriscaldiamo il nostro forno Non posso regolare le temperature Nooo E niente, è fregatura Tocca stare a 80 gradi Dicevo, preriscaldiamo il nostro forno a 80 gradi Recuperiamo il nostro vassoietto di carta Ecco, adesso Purtroppo commetterò una cosa Che in un video su come cucinare con la stampante 3D Non avrei dovuto fare Cioè di usare un termometro da carne vero Avrei potuto smontare una stampante Prenderne il termistore E cacciarlo dentro la carne E dopo in qualche modo collegarlo alla scheda madre Della stampante che stiamo utilizzando per Ma era troppo complicato È un video del giovedì e del primo aprile Quindi ci faremo andare bene un termometro da carne Giusto per capirne la temperatura interna Voilà, 17 gradi Bene È il momento di infornare È anche caldino dentro, su serio? Ok Ehi, lo Snapmaker Ci regge il termometro Vabbè Parliamo di cosa voglio fare In poche parole Neanch'io lo so E allora Intanto sto cercando di scaldarla un pochettino con il nostro fornetto Secondo me non riuscirà a fare più di tanto quello Ma intanto cerchiamo di portarne la temperatura interna un po' più calda L'ideale sarebbe arrivare a 54 gradi di temperatura interna Ma poi il laser forse potrebbe riuscire ad aiutare Ma non so neanche se usare il laser Intanto buttiamo in temperatura la Mingda va Allora Questa in teoria 90, 100, 110, 115 Attenzione Ok Andiamo a 105 105 mi piace Si può cucinare con le stampanti 3D? Io dico di sì Ok Allora La bistecca Sta ben salendo di temperatura L'abbiamo già portata su di 6 gradi Il piatto è 85 Ci vorrà un botto In mezzo In mezzo scotta scotta Qua ai lati È un piatto della Sidewinder Però vabbè L'importante è che in mezzo Tra l'altro ha dei vantaggi cucinare così freddo Il burro a punto di fumo a 130 gradi Noi siamo a 110 Allora Non ci resta che aspettare che quella si porti ai 105 desiderati Ho messo un po' di olio sul piatto Giusto per evitare che ci si attacchi proprio del tutto Lo so che ha un aspetto terribile Vi assicuro Ho mangiato cose peggiori in vita mia Della bistecca che cucineremo qui Ci proviamo? Proviamo a tirarla fuori dal forno? Non ha avuto un grandissimo effetto Ma diciamo che me l'ha portata a temperatura ambiente Let's go! Giustamente non sfrigola Giustamente Perché Marco ti aspettavi che sfrigolasse? Allora La temperatura non sembra muoversi Oh però il piatto è a 107 gradi Noi vogliamo che la bistecca arrivi a 54 Per essere medium rare La faremo Attenzione però Attenzione Siamo già a 28 29 adesso Potremmo addirittura farcela Ok ero andato in cucina Un attimo a imbastire un contorno Siamo a 43 gradi Non male Non male 43 è molto buono Uuuuh Raga Con una stampante 3D Con una stampante 3D Non ci credo Mingda A 107 gradi di piatto Mettiamoci sopra un gocciolo di burro Tanto può starci quanto vuole A 107 gradi il burro non fuma Ok fast forward abbiamo un problema Nel senso che La bistecca è Cotta non benissimo Ma siamo già a 55 Verrà sicuramente Un po' più cotta del medium rare Credo Ah si Guarda come si scioglie il burro Ah 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 Ecco cosa servono le sidewinder A prestare il piatto Al contrario Per Uh ah brucia 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 Buonissimo Sari Sari fabbrica cinese Di stampanti 3D Ah che roba 57 però Non bene Non bene Mi sa che dobbiamo intervenire Mi sa che tra un po' Tra un 3 gradi Dobbiamo intervenire Ok organizziamo un rimedio alternativo Marmo Acciaio Ghisa Bistecca Oh comunque a parte tutto Direi esperimento più che riuscito Eh questa qua Io a casa mia la chiamo cotta Ci facciamo giusto un po' di crosticina in più Ma Oh cotta è cotta ragazzi Comunque dicevamo Bistec E risolviamo la questione A fiammate Chissà se funziona ancora dopo tutto sto tempo Sembra che si Ok Aspettiamo che si scaldi Eccola Ah perché su youtube non l'ho mai mostrata Ma alla fine ho trovato la bombola potente Ah 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 Bene Molto 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 Bene Allora facciamo una cosa del genere Questi li ho fatti in friggitrice Mi dispiace Ma se no non ne uscivamo Beh Ma che roba Non resta che la prova dei fatti Assaggiamola Allora Allora Beh Bella tenera Ragazzi Una bistecca perfetta Cucinata Su una stampante 3D Non posso farvi permeare nel video Il profumo che c'è in questo momento Guarda qua È perfetta È perfetta Medium Rare Ah comunque Tanta roba Buon appetito È chiaramente una bistecca del Lidl Non è Wagyu Però tanta roba Pensare che l'abbiamo cucinata sulla Mingda Questo video non era Mingda da fare Ragazzi Ci vediamo sabato Con il primo episodio del Beliver Dell'aereo gigante Buon appetito Buon primo aprile Ciao a tutti Grazie a tutti.